Un indagato e 4.150 mascherine sequestrate erano pronte per essere immesse sul mercato, le FFP2 con marchio C è illegittimo. Non erano a norma, erano senza la documentazione che ne attestasse il superamento dei test di laboratorio previsti da legge, ma grazie all'intervento delle fiamme giallinissene e alle loro attività investigativa, proprio durante un'ispezione della Guardia di Finanza all'interno di un'attività commerciale a Caltanissetta, la perquisizione ha confermato l'analisi di rischio effettuata. Le mascherine, una volta ritrovate, sono state sottoposte a sequestro probatorio d'urgenza, sembrerebbero prive dei requisiti previsti per la posizione del marchio C per la vendita come dispositivo di protezione pediatrico. Vendute come prodotti per bambini erano invece mascherine FFP2, dispositivi di protezione individuale destinati ad un pubblico di lavoratori. L'utilizzo di questi dispositivi da parte dei bambini va contro le norme europee, che si avvalgono del parere di organismi accreditati, nello specifico la ASFER e la European Academy of Pediatrics, che spiegano che i bambini dovrebbero utilizzare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico, considerato che l'uso di mascherine facciali filtranti è modellato su adulti. L'autorità giudiziaria interessata ha emesso il decreto di convalida del sequestro effettuato di mascherine.